È tempo di grandi colpi e di riconferme per le società erpine. Giovedì il Solofra, che ha mantenuto il bomber di Benedetto, dovrà cercare di trattenere anche il centrocampista Roberto Dello Russo. Il calciatore parlerà con la dirigenza e proverà a proseguire il rapporto con il club giallo-blu. Movimenti in promozione, Vincenzo Lippiello passa dalla Virtus Avellina all'ambizioso carotenuto Mugnano. Il Baiano, come avevamo annunciato nei giorni scorsi, ha ufficializzato Adolfo Gerolino. Il calciatore mandamentale ha deciso di mettersi in discussione alla corte di mister Francesco Sgambati, dopo la buona esperienza con i cugini del Mugnano. Club Granata, che ha confermato anche l'attaccante Guido De Stefano. La Bellinum è al lavoro per due colpi da 90. Si tratta di Silvio D'Andrea e Fabio Scippa, due punte di primo livello che potrebbero accasarsi alla corte di mister Criscitiello. Intanto, scendendo nel campionato di seconda categoria, l'US Monteforte ha ufficializzato l'arrivo di Simone Grassi all'esterno classe 1999 e stato tra i protagonisti della promozione del mercogliano di mister Gerno Giannasca. Toccherà a lui trascinare insieme ai nuovi compagni il club bianco-verde in prima categoria.